Sì, sono insieme. Dite voi quando posso che sono andato in mano. Infatti, ecco qua. Grazie. Quindi, viene raccolta la scheda anagmestica. Il medico igienista è a disposizione anche per valutare le dichiarazioni informative con le indicazioni che ci ha fornito il Ministero con una circolare ministeriale il 24 dicembre. Vero, dottoressa Angelini? Se sbaglio, mi correga. A questo punto, una volta rilasciato e firmato il consenso che prevede come da indicazioni anche di carattere medico-legale, ma soprattutto contenute nella circolare del Ministero, firma del vaccinando, firma del medico igienista e firma di un secondo operatore sanitario, proprio per garantire la legittimità del consenso. La seconda postazione serve per la volta fatta la vaccinazione, l'operatore dice qui già la data del secondo appuntamento della vaccinazione e poi il trattamento è certificato di vaccinazione. Grazie. 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 Grazie.